Anzi, iniziamo con gli ostacoli, che è questa. La posizione della testa che è importante. È la stessa storia che vi ho detto di quando si corre, non c'è altro, no, lo sguardo deve essere orizzontale. Qui la testa non deve fare nessun movimento diverso da quella che è la linea del corpo. Se io sto così in partenza, gli occhi devono stare a terra, ok? E devono continuare a stare a terra. Perché se io parto e sollevo il capo verso l'alto, cercando di guardare in avanti, mi rialzo troppo presto. È come se un aereo passa da quando sta così a così. Invece la partenza è così, vedete? Cioè ogni passo l'inclinazione progressivamente diminuisce. Se uno dopo un appoggio sta già diritto, non gli serve partire dai blocchi. Quindi quando noi solleviamo il capo e guardiamo in avanti, che succede? Succede il contrario di quello che vi ho detto, no? Si contraggono i dorsali, si mollano gli addominali e il busto si rialza. Quindi per conservare questo equilibrio posturale tra dorsali e addominali, la testa deve stare sul prolungamento del capo. L'indicazione a dare ai ragazzi è questa. Dopo quattro appoggi iniziate a guardare un pochino avanti. E adesso provate. Dai, chi c'è? Forza! Quattro appoggi dovete guardare per terra, occhio a terra. Forza! Dai, dai, manca un blocco, chi va? Sfruttiamo un blocco vuoto. Ah, dai. C'è che Andrea mi confonde? Io avevo il vento a fondo. Sfruttiamo un blocco. C'è un po' stretto questo per te, guarda lì come stai. Vabbè, dai, pronti? Via! Oh, molto meglio con gli occhi a terra, avete visto? Qualcuno l'ha fatto bene. Chi prova, dai, altro gruppo. Chi c'è? Sono finite. Dai, dai, dai. Due piedi belli, lunghi. Grazie. Misura. Vicini. Troppo. Se lo metto qui, ce la metto qui a terra. Se lo metto qui a terra. Ok. Pasqua. Due o tre. No, no, dietro i blocchi. Facciamola per bene. Questa che poi stoppiamo. Abbassa quello, abbassa quello. È andato su, forse nello spostarlo. Vabbè, poi... Ma che stai combinando? Hai sbagliato. Hai sbagliato. Appalso. Perfetto. Allora, vi ricordo. Piedi che non cedono. Dovete arrivare così a terra. E poi, occhi a terra, per minimo quattro appoggi. D'accordo? Hai troppi posti. Spalle perpendicolari. Spalle perpendicolari. Facciate una spumessa in tre secondi. Alla. Tre secondi? Rotti. Sulla ragazza. Via!